Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui a Mandri vicino alle valli di Comacchio e alla tenuta Augusta, un agriturismo che offre per 10 euro docce calde bello pulito e tutto, si mangia bene, un bel posticino con vicino un laghetto e abbiamo natura, fa un po' freschetto però dai, là in fondo abbiamo un laghetto proprio di fronte alla camera, qui abbiamo l'agriturismo, carino, fatto bene sempre pieno di gente a mangiare, facilmente raggiungibile, sulla Romea bel posticino devo dire, bello per attraccare col camper, molto carino, molto comodo anche, colonnine e tutto, 10 sacchi al giorno, ci sta dentro, dai ok, un bacione a tutti e ciao ciao